Ciao amici, oggi vi parlo di Slippers, un sito dove vendono esclusivamente pantofole molto belle, creative e simpatiche. Ora vi faccio vedere quelle che ho ricevuto io, eccole qui, sono sicura che vi piacciono, vero? Sono chebardate, a forma di scarpa, hanno dei lacci, suola di gomma comoda anche per non sentire il freddo ai piedi, sono molto morbide, fatte veramente bene, cucite alla perfezione, nei minimi particolari, veramente belle. Oltre a queste pantofole ci sono altri modelli, sia a forma di animale come pinguino, tigre o cane, oppure pantofole semplici, di diversi colori. Queste pantofole vanno bene sia per uomo che per donna e per bambino, ottime da regalare, non trovate? Mi lascio qui il sito, andate a visitare, non ve ne pentirete, www.slippers.eu Ciao!